Ed eccoci qui, hai terminato quest'altro successo, non sapevo che eri così brava, proprio veramente mi hai stupito Ti è piaciuto il film quindi, deduco Mi è piaciuto sia il film ma principalmente la tua arte, sei stata bravissima a cantare, stupenda, a recitare, stupenda e a ballare, stupenda Grazie amici Sei completa Il prossimo film? Il prossimo film lo scriveremo Lo scriveremo Vediamo che succede Vediamo che succede Questo potrebbe fare anche, come dicevo prima, anche con altri, potreste fare anche un musical con questo Mi piacerebbe tanto portarlo a teatro Ho parlato anche con il regista prima, appunto gli facevo questo suggerimento Bravissimo E ho detto, grazie del suggerimento potrebbe essere diciamo una partenza per un musical Eh sì, sarebbe bello Speriamo Dai, incrociamo le vita E magari andiamo Ma che occhi che però ha questo intervistatore Ma i tuoi non è che sono minori, sono molto belli Facciamoli vedere però I primi piani, facciamo vedere gli occhi I primi piani Grazie, complimenti a te Grazie a voi Non ti voglio disturbare perché so che non sei stata proprio bene questi giorni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti